Lo diciamo quando torna il sole, nel senso che noi abbiamo affinato le nostre previsioni in metro, lo dico ai tanti premi Nobel che abbiamo di meteorologia, ai premi Nobel di idraulica, di ingegneria, perché abbiamo scoperto con un sacco di gente sul divano che sa tutto, e soprattutto ai cagli ormai sui polpastrelli a forza di scrivere, vergognosa sta roba. Lo dico che se oggi abbiamo previsioni nelle quali sbagliamo di 3-4 cm le maree, piuttosto che le piovosità ce le abbiamo perché ci sono uomini e donne che lavorano da 10 anni ormai per affinare, su volontà nostra, perché non sono tutte le ragioni che sono così. Quindi noi adesso prevediamo che alla volta di domani dovrebbero esserci schiarite e si ritornare la normalità. Dopodiché la ripresa del maltempo ci sarà, si tratterà di capire se sarà un maltempo autunale verso l'inverno sostenibile, con piovosità e abbassamento delle temperature, ma se continuiamo a scegliere lo scirocco continueremo a dare problemi. Perché scirocco significa caldo, cioè temperature miti, e mare che non riceve, quindi marea. Mare non riceve, la marea fa danni a Venezia, ma anche non fa scaricare i nostri fiumi. Se non scaricano i fiumi, la campagna va per sopra, però non si sa che qui abbiamo 1200 metri cubi, che è il bibione sotto acqua e che abbiamo l'emmene che è mandato per portugolare sotto acqua, piuttosto che con un po' le sagittarie e così via. Grazie.